Allora, cosa ci ha spinto a scegliere Senta Tempo Live? Sicuramente la professionalità, il modo con cui ha deciso di organizzare il tutto, le modalità, le domande che ci ha fatto, le cose che realmente ci interessavano, ha preso in considerazione tutte le cose che a noi interessavano, quindi ha cercato di capire quello che noi volevamo e ha cercato di darci un qualcosa che fosse il più vicino possibile, quindi nel nostro caso ha centrato in pieno, quello che noi volevamo, quindi sicuramente la sua elevatissima professionalità e il suo modo di interpretare quello che ci aveva promesso, tra virgolette, quindi grazie perché comunque ha rispettato in pieno quello che erano state le premesse, quindi quello che gli era stato chiesto. Il vero motivo in realtà è molto simile alla prima domanda, ovvero a cosa ci ha spinto a sceglierlo, il vero motivo è stata la professionalità, è stato il modo con cui tutto l'equipo, comunque tutti senza tempo vanno a organizzare il matrimonio, sono impeccabili da tutti i punti di vista, le tempistiche, i brani, l'organizzazione, il coinvolgere la gente, il non essere invasivi, Tutte le modalità ovviamente con cui una coppia crediamo noi, lo crediamo ancora di più oggi, visto che la sposati l'abbiamo vissuto, tutte le modalità che comunque una coppia deve assolutamente avere. Allora, sì, noi sicuramente lo consigliamo, li consigliamo sicuramente e senza ombra di dubbio. Andate proprio sul sicuro perché non... Sì, assolutamente. Se volete andare sul sicuro, non avere paure, problemi, intoppi e avere tutta la situazione organizzata dalla A alla Z, non dovete scegliere loro e contattateli. Anche perché poi una volta contattati, già appena farete il primo incontro, avrete comunque la tranquillità di aver scelto persone competenti. In realtà non necessariamente avreste bisogno comunque di chissà quali dettagli. In realtà già il fatto stesso che di incontrarli e fare un semplice colloquio con loro, un preventivo e capire comunque il modo con cui lavorano, già vi fa capire tante cose che poi è la realtà. Sceglieteli. Sì, sceglieteli. Ovviamente abbiamo valutato altri preventivi perché comunque abbiamo avuto il tempo di poter scegliere. Però nel nostro caso nessuno ci convinceva e comunque Giovanni è stato bravo perché ci ha fatto capire... Sì, fin dal primo incontro. Sì, fin dal primo incontro ci ha fatto capire comunque le differenze che ci sono nell'andare a dare un determinato servizio piuttosto che un altro. Cioè, chiaramente il tutto è proporzionato. Quindi anche da quel punto di vista c'è stata la massima trasparenza che oggi sicuramente viene ripagata ancora di più perché comunque è stato ultra meritato tutto quello che comunque ci era stato promesso e che comunque è stato mantenuto. Quindi assolutamente. Grazie. Grazie per la bellissima giornata. Grazie.